In terra di Turchia il cristianesimo ha radici profondissime, antichissime, però soprattutto nell'ultimo secolo i cristiani sono calati drasticamente sia in termini percentuali che in termini assoluti. Le chiese cristiane vivono momenti di difficoltà, quali sono queste difficoltà, quali sono le cause e cosa è possibile fare in prospettiva futura per incentivare il dialogo ecumenico e interreligioso? Sì effettivamente è vero, la Turchia è una terra santa del cristianesimo, però credo che anche oggi a distanza di due millenni da quel momento fondatore la Turchia può continuare a essere fedele al suo modatto. La Turchia più che terra da evangelizzare è sempre stata una terra da cui sono partiti gli annunciatori del Vangelo, quasi una sorta di piattaforma essenziale di diffusione della buona novella che è una buona novella di speranza ancora oggi. Abbiamo appena cominciato il mese missionario che quest'anno Papa Francesco ha voluto in modo particolare, incentrato appunto sull'importanza della missione non come impiantazione della Chiesa o nuovo progetto coloniale dell'Occidente rispetto al resto del mondo, ma come diffusione di una parola di speranze in un mondo che ne ha bisogno in modo particolare. Io credo che malgrado tutto, sì è vero, c'è una storia antica della Turchia che parlava di più diversità, di presenza anche numerica più importante di cristiani, ma oggi quello che è più urgente da fare in Turchia e abbiamo cercato anche di capirlo insieme, non è tanto piangerci addosso pensando e mitizzando un po' questa storia antica, ma chiederci come il Vangelo, che continua ad essere parola viva, può essere declinato sia in questo posto che continua ad essere un luogo di passaggio impressionante, se pensiamo solo ai flussi migratori e alle immigrazioni, ma anche a partire da questo mondo nel Mediterraneo prima di tutto, sulla quale la Turchia si affaccia, e in questa regione medio orientale così ricca anche per le tradizioni abramitiche, delle grandi fedi monoteiste, ma così anche spesso sofferente per questioni di violenza interna. Quindi credo che la Turchia non ha perso la sua vocazione, al tempo la chiamavamo Asia minore, oggi corrisponde a un paese che si connota per la sua fede soprattutto e sul riferimento culturale islamico, però non ha perso questo suo compito e noi, piccola presenza cristiana, molto diversificata, siamo chiamati a riscoprire la ricchezza della diversità e non fare un impedimento all'incontro per testimoniare di un unico Cristo morto e risorto. Dall'Italia cosa è possibile fare per sostenere le comunità cristiane in terra turca? Prima di tutto continuare a visitare come pellegrini questa terra, noi abbiamo bisogno che delle persone possano condividere con noi le loro esperienze di pellegrini della fede e della vita cristiana in occidente, vengono a visitarci, anche perché toccando con mano quello che viviamo qua, quello che è anche questo paese, si va al di là degli stereotipi spesso incoraggiati da una certa mediatizzazione un po' superficiale che semplifica i rapporti tra blocchi, tra mondi, non capendo e non sottolineando la complessità di questi mondi stessi. Quindi venire e magari stimolare, incontrare un paese che è molto giovane e dove le persone sono assettate anche di conoscere nuovi modi di servire la società, di costruire una società che sia più inclusiva e non esclusiva. Quindi prima di tutto incontrarci, portare le vostre esperienze e essere pronti a farsi sorprendere dalle esperienze che si possono conoscere qua. Grazie.